Passiamo al turismo. Recentemente c'è stata una riunione che ha avuto come oggetto Monesi, l'impianto sciistico del ponente Ligure, su cui si punta molto per uno sviluppo turistico locale. Diciamo che Monesi e Santo Stefano Daveto sono le due località dove in Liguria si scia e che completano l'offerta turistica della nostra Liguria in inverno. Sono importanti perché dimostrano appunto il modo variegato di come si può fare il turismo in Liguria, dimostrano come il nostro paesaggio sia totalmente differente dall'una all'altra parte, dalle spiagge dove anche d'inverno nelle giornate di sole si può prendere il sole e fare elioterapia, appunto all'alta montagna dove si può sciare. È l'occasione di incontrare i sindaci che daranno vita al consorzio dei comuni per tenere in vita e un applauso a questi sindaci che si impegnano anche dal punto di vista economico, essendo le piccole comunità, per tenere in vita la seggiovia che ricordo è stata fatta con fondi comunitari e di proprietà del comune di Triora perché insiste sul suo territorio, è stata gestita dalla provincia per tenere in vita questa importante infrastruttura turistica. La Regione non può dare soldi materialmente per la gestione dell'impianto che sarà affidata a un privato, però abbiamo raggiunto l'accordo con il futuro consorzio affinché la Regione possa partecipare per la promozione del territorio. Questo lo ritengo molto importante perché è chiaro che più si promoziona il territorio di Monesi, quindi le piste di sci del ponente Ligure, più persone ne vengono a conoscenza e possono quindi andare a sciare sulla montagna bellissima del Saccarello. A margine di questo io mi sono anche impegnato come assessore al turismo a confrontarmi con la Regione Piemonte per importare la legge sciistica che la Regione Piemonte ha perché è pane suo, come noi abbiamo le leggi regionali e le ordinanze che ogni anno vengono fatte dai sindaci e dai capitanieri di Porto per garantire ai bagnanti un turismo sicuro, dei bagni sicuri, così la Regione Piemonte ha una legge che può essere di riferimento a noi per lo sfruttamento delle piste innevate. Noi faremo riferimento a quello per garantire a Monesi la possibilità di ampliare la propria offerta sciistica e lo sfruttamento della neve che, ripeto, non è di nessuno. La neve è debagnale, quindi stiamo studiando come, dove e in che modo si può sfruttare in modo maggiore di quanto si è fatto finora.